Musica Su 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 su, sveglia poltroni, scansa fatiche, allenamento, questa sera si fa sollevamento pesi Speriamo di non dover sollevare lei professore Spiritoso, ve lo sapete voi altri di mentelli che all'Olimpia del 36 se non c'ero io? Se non c'ero io, c'ero un giapponese, tu che mi tocchi, io Mica tu cretino, è il nome del giapponese, tu che mi tocchi Ha sollevato 550 kg, un russo ha sollevato 590 kg, un ungherese ha sollevato 610 kg E lei professore? Io ho sollevato delle obiezioni perché per me sollevavano troppo Bravo professore Su su piedi, piedi Serietà, il sollevamento pesi esiste serietà, è una certa inclinazione Guardate me, uno, bracci in avanti, e qui ci vuole inclinazione Due, inchinarsi, anche qui ci vuole inclinazione Tre, sollevare Che le sollevare, professore? Mi sono inclinato Stia tranquillo professore, ci penso io E lei mi dico E' una macchina In piedi Certo professore deve essere uno sport molto pericoloso Pericolosissimo, può procurare anche qualche strappo Strappo muscolare? No, strappo di pantaloni, e allora da pericoloso può anche diventare ridicolo Specie se si danno le spalle al pubblico Ah buona festa, a me piace E ora, a mio rischio e pericolo solleverò 2500 etti Come? Ignorante, 250 kg Ma non ce l'ho io Uè, 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 uè Cos'è questa sollevazione dei sollevatori, eh? Il piede! Sempre lo stesso? Quell'altro! Beh fa niente allora, movimento, muoversi, muoversi, muoversi Sudare fa bene, dilate i pori e spelle le tostine Movimento, movimento, movimento Sì? Ma lei non suda mai Fatti miei Movimento, 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 movimento Movimento Movimento, 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 movimento Perché Movile mantiene il corpo sempre asciutto Costante la sua temperatura, proteggendolo dal caldo e dal freddo Movile, un naturale benefico massaggio triboelettrico contro i reumatismi Movile si può lavare anche ogni giorno ed è così facile Asciuga rapidamente e non si deve stirare Non infiltrisce e non si restringe In vendita a prezzi controllati nei negozi che espongono queste insegna Movile, un prodotto polymer Montecatini Grazie Grazie